Aspetta, 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 si sta muovendo Vai bello Ecco come funziona No, è bellissimo Vai bellissimo E vabbè, è anche giusto, tu gli dai la merce e lui le rimette Oh che figa E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki Sì, sono Stef, chissà giochiamo a ShopEquipe E siamo tornati nel nostro fantastico negozietto dei consolini In cui oggi ci saranno tante bellissime novità Esattamente, è l'obiettivo di oggi è sbloccare un po' di cose nuove e fighe Quindi dobbiamo con te tantissimi skill points e vedere un pochettino Allora Non mi accontenti mai Esatto, lasciami pace con quelle trappole Io sono due episodi che sto chiedendo le trappole e ancora non mi accontenti Non è giusto E non te le do le trappole Il negozio è anche mio però, lo faccio fallire, adesso chiamo tutti i ladri Cosa sta succedendo? Vedi che c'ha le crepe? Aspetta, 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 aspetta Dobbiamo sistemare lo scaffale Scusate, qua le cose non si possono spaccare che siamo poveri Non sapevo che si potessero rompere gli scaffali e tutte le cose del negozio Non lo sapevo Certo, devi anche aggiustare le cose, mi sembra giusto e normale Allora, prima di tutto, una cosa che ci hanno scritto i consolini È che questa pozione la vendi solo quando sblocchi le cose dei maghi Ok Quindi per ora non possiamo e quindi per quello nessuno l'ha mai comprata Non è che non piace ma semplicemente servono i maghi Semplicemente non abbiamo la giusta clientela quindi il problema non siamo noi Esatto, esatto L'importante è quello Non è colpa nostra, non è colpa nostra ma dei clienti, puccioni Guarda, è tutto pronto, tutto gigante E sta iniziando a diventare bello, mi piace Come abbiamo disposto le cose inizia a piacermi davvero tanto Grazie, 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 grazie Allora, apriamo Un'altra cosa che ci hanno scritto oltre a quella delle pozioni, ok È che l'assistente esiste ma è buggato Però No Sicuramente i consolini l'avranno scritto dopo aver visto la serie di Gabby Che era più di un anno fa Quindi secondo me possiamo provarci perché potrebbero averlo fixato Sì, anche perché da poco hanno fatto davvero un grosso aggiornamento in questo gioco Quindi sono cambiate tante cose ovviamente Ah, è un'altra cosa che ci hanno detto, ho detto che siamo in tema Eh, ma ormai le volete tutte io, non puoi giungerla, la dici dopo Di controllare tutti i gestini della città Giusto, brava, mi stavo già dimenticando È molto importante perché ci hanno detto che si possono trovare davvero cose da vendere a prezzi altissimi Sì E quindi di non controllare solo il nostro come stavamo facendo noi Perfetto, possiamo iniziare? Cosa prendiamo? Sto cercando Ok, la cosa dell'assistente Ok Allora, buongiorno, buongiorno, non ci perdiamo in chiacchiere Lei cosa vuole? Un bello scudo, vero? Eh sì, uno scudo al mattino Coglie e Merlino Non mi è venuta Era terribile Era terribile Poteva venirmi la rima della giornata E invece no E invece no, ero abbastanza ispirato Lei cosa vuole? Prenda la spada, non lo scudo Dai, facciola bravo Ok, dei guanti Va bene anche così Perfetto Qualche missione abbiamo di vendere Due spade Sì, e gli scudi credo siano mezzo pagati Eh, boh, boh, boh Lo so, vediamo Comprateci ste spade che abbiamo la missione Non provate a rubare Ok, guanti e spade Bravissimi Siamo già ricchi L'obiettivo di oggi è accumulare tanti skill points Per sbloccare tante nuove cose Quindi Ovviamente Finire le missioni È proprio la cosa più importante È proprio la palla Pum, finisce la missione Pum, un'inizio in un'altra Pum, pum, capito? Oggi missione, missioni Missioni, missioni, missioni Spada Ci stanno prendendo in giro Eh, cosa vuoi dire? Ci stanno prendendo in giro Non gli piacciono le tue spade Una delle due per forza No, è la ruba Ok, l'altra l'ha comprata però Allora, scusi Devo insegnarle una lezione La lezione è Non si rubano le spade Troppo bello per essere vero Quando vogliono le spade Le rubano Signorina E lei si è spaventata Eh, vabbè Arrivederla Ho sporcato? Arrivederci No, per fortuna no Buongiorno C'è una spada che hanno appena provato a rubare Ma che non hanno rubato Perché è bellissima Capite? È talmente bella Che la vogliono rubare Perfetto, guarda doppietta Si è comprata la cesta E uno scudo Grazie mille signore Vabbè, ma abbiamo già di nuovo mille Ma quanta gente sta entrando? Ci hanno già finito la merce praticamente Guardali Guardali, guardali Anche questo E dai E qua qua Una cosa l'avevi anche comprata Ma che cavolo rubi Dai Ma faccia da bravo Ma per favore Almeno rubi tutto O compri tutto Esatto Non fare le vie di mezzo Anche secondo me Ci tocca farti fuori Scusa Vedi? Abbiamo fatto la missione 104 punti Perfetto Ci mettiamo questa Sì Dai Sì Sì Dura eh Guarda questo qua sarà lo scaffale delle pozioni belle Delle pozioni Cos'era? Anti-born Quindi anti-bruciatura? Esatto Per non scottarti al mare O con i draghi Sono mutiudo Quindi è una crema solare praticamente Sì però che funziona anche con i draghi La crema solare normale Le creme solari di adesso non è che funzionano con i draghi Cioè se dovesse spuntare un drago Come fai? Infatti sono speciali Made by Stephen Fereniki Capito? Ok Ho capito tutto Che è peggio di Made in China Proprio Se vedi Made by Stephen Fereniki Non lo devi mai comprare Perché può solo andare male Fattene la larga Totalmente Esatto Mettiamo uno scudettino anche qui Uno scudettino qua Uno qua E uno qua Guarda abbiamo già riempito Tutto Buongiorno Mi ha fatto spaventare Anche a me è entrato un po' troppo sicuro di sé Ho avuto paura Ascolta proviamo a prendere questo Dice che ci permette di vendere E di imparare a fare gli oggetti diciamo meccanici Dato che sono appunto le cose da ingegnere E magari ci costruiamo l'assistenza L'assistente robot Esatto Brava hai capito subito il mio piano Non ha molto senso ma va bene Esatto esatto Allora vediamo Abbiamo sbloccato Stream A buck Che è sta roba Engineering book Engineering scrolls Ma forse è quello Scusa rimettimelo Guarda la descrizione Perché dice Non c'è vergogna A chiedere un aiuto Quindi probabilmente Ti aiuta Una specie di robot Che ti aiuta davvero Vediamo Vediamo Ho provato a prenderlo Vediamo un pochettino Nel mentre tantissimi clienti Come sempre Grazie per la spada Signorino Lei cosa vuole Uno bello scudo E adesso ruba Compra scudo Compra scudo Grazie Allora quante possioni abbiamo venduto Tre Eh non le comprano bene queste Forse probabilmente Allora perché abbiamo solo la missione di venderne 20 Ah buongiorno lei Oh Chi è? Puoi potenziare le tue cose per renderle super di lusso No vabbè Ma costa tantissimo Grazie È gentile Però Costa un po' troppo Per noi Diventeremo ricchi Torneremo da lei E ci ha pure bloccato il gioco il signorino Aspetti Scusi Scusi Stavo guardando un pochettino i cestini in zona Perché i consolini appunto ci avevano consigliato Però li sto trovando tutti vuoti Ah no questo è pieno Guarda qua Perché dicono che si possono trovare delle spade leggendarie Esatto E chissà quanto valgono Per ora però nulla Però ogni tanto magari diamo un occhiato E vediamo se si trova qualcosa Esatto Sperando che ne vendri non ci rubino tutto Speriamo bene Allora qua niente Ok buongiorno Le compre Facciala bravo Per favore grazie Bravissimi Se funziona È magnifico No avevamo ragione Che bello È un bot Quindi un assistente robotico Che può funzionare per tre cose Uno Riprendere gli oggetti che cadono Due Ammazzare i ladri con una scossa Tre Rimettere le cose che vendono vendute Noi lo vogliamo assolutamente provare Per ammazzare i ladri con una scossa Chiede 50 gold al minuto Però è una figata Guardalo è pronto Guardalo È prontissimo a combattere Siccome coi ladri Tendiamo ad avere difficoltà Mentre invece diciamo Nel rimettere la merce Ce la possiamo cavare anche da Io sono un po' preoccupato Che faccia guai Anch'io Anch'io Sistemato Scopriamolo Esatto Buongiorno Buongiorno Siamo al giorno 7 Fra poco cambia stagione ragazzi Lei messicano Ti prego ruba Vuole rubare qualcosa Ruba che voglio godermi la scena Oggi siamo felici se qualcuno ruba Diciamo Ok Adesso ci scommetti che non ruba Buonas Buonas Noces Muchas gracias Sei terribile Muchas gracias Signorita Anche lei Delle stivali Ok va bene Siamo felici Rubate Qualcuno rubi per favore Te l'ho detto Oggi ci scommetto Che non ruba nessuno Si composteranno tutti bene Se non rubano Per me sta già funzionando Ok Ha funzionato Un tipo ha provato a rubare Da quel bancone E l'ha demolito Io non ho parole Ragazzi Ve l'avrei voluto far vedere Ma abbiamo aspettato 3 minuti Per avere il primo ladro di oggi E l'ha Disintegrato istantaneamente Io pensavo Che avrebbe avuto Almeno il tempo Di scappare un po' Esatto Che almeno sarebbe scappato Invece nel momento In cui prova a rubare Viene demolito Proprio totalmente In quell'istante Bellissimo 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 Allora aspettate un attimo Che qua puliamo Che nessuno deve sapere Che abbiamo un robot Che uccide i nostri clienti Vediamo se con un ordine Fatto Ce lo sistema lui Non ne ho idea Perché allora Non fa gli ordini Da solo Ma non serve neanche Che me li sistemi Da solo Scusa Scusa Se adesso ci vai Non è che ti sistema questi Tipo io li dico Scusa Selezionali 125% No c'è un ladro Eh aspetta C'è un ladro Sempre nei momenti Più sbagliati Vero? Sempre nei momenti Ecco qua Ma perché hai preso Anche l'altro Cioè perché funziona così Ma no Sono troppo potente Ti dicevo Vedi che gli eledati Mi sembra Che li stia mettendo Negli scaffali Oh no Dove? Dove? Io ti giuro Che ho visto qualcosa Apparire Aspetta 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 Si sta muovendo Vai bello Ecco come funziona No è bellissimo Vai bellissimo E vabbè Ti assaggi tutto E anche giusto Tu gli dai la merce E lui le rimette Oh che figa No che bello Ti amiamo Robattino E lo adoro No Guarda Ma stiamo scherzando Altro che non funziona Consolini L'hanno sistemato D'addio È bellissimo adesso Che poi Quando avrai un negozio Più grande Quindi più merce Guarda che super comodo Perché ci metti una vita A sistemare le cose Ma infatti secondo me Poi avrai anche più di un robotino Alla volta Uno che difende Uno che rimette le cose Sarà tutto così Capito? Tutto perfetto Con gli skill points Stiamo a 70 Che comunque è buono Ah voglia Sì Non è male E magari potremmo Iniziare a sbloccare Il primo di qualcosa O maghi O druidi O rogue Sono indeciso Quale sceglieresti? Non lo so Perché sono curiosa Di vedere come saranno Sicuramente saranno vestiti diversi Sono proprio curiosa Forse i maghi Perché così vediamo Anche se Se vendiamo la nostra pozione Che è lì ormai Da tre mesi Ci può stare Sei indeciso anche tu Perché anche druidi Secondo me è interessante Non lo so Di sicuro pensavo Che dato che abbiamo già Praticamente tutta la merce Ci possiamo espandere un pochino Ok Un altro robot Ancora no Non mi sembra il caso Cesto così Mi sembra che vada bene Io vorrei un altro bancone Da questa parte qui Sì Ti piacerebbe? Giusto Sì Ok Così tipo E poi Altre due cose per le pozioni Sì Qua capito? Una lì Esatto E l'altra qua Lì dietro Ci arrivano i clienti Sì Vero? Sì Secondo me Io questo è quello che vorrei di più Sì anch'io Praticamente sblocchiamo un eroe Che va Ci sa cosa trova Nelle avventure per noi Mi ricorda un sacco Sort of the court Anche a me Che avevi visti Praticamente quelli nel reame Che andavano a fare le avventure per te Accontrolliamo un po' di cestini Ok ci sta Qua nulla Qui forse sarebbe meglio pulire dai Sì direi Puliamo un attimino Dobbiamo anche iniziare a mettere le offerte Le pozioni da 10 Tanto non costano nulla E magari attirano un po' di clienti Eh magari vedono che sei magnanimo e gentile Quindi sono più propente Ci migliora la reputazione A comprare nel nostro negozio Non pensano che siamo solo dei money grabber E invece lo siamo E invece lo siamo Quanto vale? O è normale? 127 È una two hand Ok Credo però che non la comprino tutti questa eh Probabilmente i guerrieri Perché mi sa molto di guerriero Capito? Sì esattamente Vabbè Eh guarda come è grande Che bello Bella 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 I doppio Mamma mia i cestini valgono un sacco Sono una figata Allora hanno comprato che cosa? Mi sa una spada normale Vero? Non uno scudo Dannazione Purtroppo no Comprateci un scudo per favore Lui lo prende Sta andando verso lo scudo Ma lo prende O lo ruba o lo prende Ole Ok quindi Bravo Grazie Grazie mille 90 punti Di conseguenza possiamo imparare i maghi Tacchete Tacchete Spim Ok Adesso aspettiamo i maghi Abbiamo le mana potions Ne compro subito 10 Stai scherzando Ovviamente I wizard gloves Quindi i guanti da mago Quindi vogliono proprio anche tutta l'armatura Chiamiamola così Anche se in stoffa Sì Vogliono anche tutte le cose per loro La staffa Giustamente Tipo quella di Harry Potter Che bello Ok compro tutto questo Poi compro un po' di spade Che le abbiamo finite E poi E poi E poi E poi Due stivaletti Che non fanno mai male E un po' di queste Vai 1500 Di ordine così In una botta sola Non vedo l'ora di mettere tutto Sono troppo curioso di vedere le cose da mago Io sto guardando se ci sono Come li possiamo riconoscere Ah 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 sono vestiti normali Ok Che delusione Però Io speravo Comprano il nostro abbigliamento E diventano vestiti da maghi Ha rubato qualcosa il signorino No non credo Starà correndo perché ha voglia di correre No Disgraziato Non ci provare mai più Puliamo subito Guardalo Guarda che bello che Non abbiamo cambiato i prezzi però No lo fa da solo Gli imposti 125% Lui vende tutto al 125% Ah ma figata Figata questo Efficienza 10 più È davvero fighissima Meno male che l'hanno fixato Perché è proprio proprio utile Sì Allora Skill points Ne abbiamo 12 Abbiamo bisogno di una nuova missione Queste cose da ingegneri Non le possiamo vendere Facciamo un antiborno Dai Proviamoci dai Magari qualche mago Le comprano di più Queste pozioni Dove sono le cose da mago Guarda Guarda i guantini Sono diversissimi Che benveni Poi sicuramente Quando potenziamo Lo skill point Dei maghi Probabilmente avremo Oh che belle Le pacchette Oh che belle Le staff Sono proprio staff Sì comunque Quando sistemiamo Avremo magari anche la veste Tutti gli altri accessori da mago Certo 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 Sì Sono felicissimo di questa giornata E questo gioco Secondo me è proprio bello Anche secondo me C'è niente da dire Merita proprio A me piace un sacco Infatti il motivo principale Per cui lo stiamo continuando È perché davvero Davvero bello Davvero divertente Non ci devi provare Non ci devi provare Cioè noi ogni volta Facciamo i complimenti E questi rubano Esatto Ah ok Gli stivali Pensavo No dai Non vi spaventate Che eravate tantissimi Ragazzi Che dura la vita da mercante Guarda Proprio dura Sì E dicevo Non sta facendo troppe views il gioco Però a chi lo guarda Piace tantissimo A noi piace tantissimo E quindi si continua uguale E quindi lo continuiamo Che ci affrega Si continua uguale Bene robotino Che tu vuoi continuare Di nuovo l'hashtag Pochi ma buoni Sì voglio continuare Voglio continuare Dicevo pochi ma buoni Ti ignoro E io parlavo con il robotino Ti ignoro totalmente Ignoro pure Non fare l'antipatica Non ti sento Non fare l'antipatica Ok non c'è bisogno Dai io direi che ci possiamo Fermare così Episodio super epico Un sacco di cose Se continuiamo Dura 30 minuti Solo il video Quindi direi di fermarci così Quindi abbiamo il robotino Che adesso lavora per noi Ci sistema tutte le cose Nel negozio Tantissime cose nuove Da vendere Sempre Sempre quando stiamo dicendo Le cose importanti L'altro Vola via Sempre Ti sei spaventato Vedi che con la scossa Non si spaventano Si si spaventano di meno Ottimo Ottimo Buona sapersi Buona sapersi Comunque ti direi anche Che poi nel prossimo episodio Magari prendiamo un secondo robot Per i ladri Che ci difende dei ladri Io te lo dico Perché è comodo Sia che ti metta la merce Ma sia anche che ti distrugge i ladri Però guarda che ci costa tanto Quindi non so se possiamo permettercelo Vedremo 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 Anche perché per il prossimo episodio Ho due cose che mi ispirano Il primo Sbloccare la parte del retro del negozio Per piantare le piante A voglia Il secondo La possibilità di sbloccare la locanda Queste due cose mi ispirano Troppo troppissimo E quindi non lo so Un secondo robotino Se ce lo possiamo permettere Facciamo scegliere i consolini comunque Va bene Sondagione Incredibile Locanda oppure giardino E vediamo un po' cosa esce Ok Sì Va bene Mi sembra giusto Accetto Bene che se piace così Se giusto Senti c'è un like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea E iscrivervi per non perdervi gli altri titoli Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.